Se vuoi aumentare la tua massa muscolare, allora smetti di fare queste tre cose. 1. Esagerare con le proteine. Un eccesso di proteine biochimicamente viene gestito dal corpo con una rimozione del radicale azotato di cui sono composte. In parole povere, vengono convertite in grassi, accumulandosi come tutto il cibo di merda che mangiamo. Se voglio aumentare la mia massa muscolare, dovrò mangiare più carboidrati. 2. Fare sempre gli stessi esercizi. L'ipertrofia è un processo complesso che coinvolge più cascate fisiologiche. Eseguendo sempre gli stessi esercizi e non variando mai, darò sempre gli stessi stimoli e produrrò sempre gli stessi risultati. Varia spesso gli esercizi per fornire più stimoli meccanici e metabolici. 3. Allenare poco gli arti inferiori. Essendo molto grossi, se allenati più spesso, i muscoli delle gambe possono fornire una risposta ormonale straordinaria, facilitando così il processo di crescita muscolare. Ergo, allenare più spesso.